Andrea Olerio della Futsal Campobasso ha realizzato anche il gol che però non è valso a nulla per la tua squadra perché è arrivata questa sconfitta contro il Sant'Elen, insomma due sconfitte in questo avvio, un periodo non proprio positivo. Sì, bisogna ammettere che possiamo iniziare meglio questo campionato, però la squadra sta lavorando duro e sono convinto che arriveranno risultati migliori. Ecco, nel primo tempo c'è stato molto equilibrio, avete provato la via della rete, mentre nella ripresa il Sant'Elen ha preso un pochino le retini del gioco. Sì, bisogna ammettere che in effetti stavano messi fisicamente molto meglio di noi, quindi non siamo stati abbastanza lucidi per reggere il risultato. Siete comunque una squadra molto esperta e immagino che ci sia voglia di riscatto dopo questo avvio. Eh sì, noi tutti, come ho già detto, ci stiamo impegnando, quindi vedremo come andrà da qui in futuro. Ecco, comunque va detto che è pesata probabilmente anche l'assenza di Pappalardi, che è un giocatore che vi può permettere qualche giocata in più, anche un po' di qualità, soprattutto un po' di freschezza. Senza dubbio, però ripeto, comunque bisogna che tutta la squadra lavori di più e vediamo. Grazie a tutti.